Ciao e benvenuto in questo video, oggi siamo di nuovo qua con Fede perché vogliamo andare a vedere insieme a te un tutorial a tutti gli Fede per andare a imparare il front lever. Lasciola parla Fede. Dovremmo partire considerando dei prerequisiti per riuscire ad avere i presupposti di forza di tirata per riuscire poi a raggiungere il nostro front lever. Inizieremo chiaramente da uno scarico di leva con le posizioni raccolte per poi andare a allontanare, ad allungare sempre di più la leva per mantenere, per riuscire a raggiungere un front lever completo full attraverso delle progressioni di incremento di carico sulla leva allungando gambe oppure aprendo il bacino. Adesso andiamo a vedere quindi i primi prerequisiti che saranno pull up normali, pull up scapolari e poi leg raises. Questi sono i primi tre esercizi che servono per impostare, per darci prerequisiti per la riuscita poi di un front lever. Perfetto, allora credo che è stato molto chiaro come sempre, vi ricordo che abbiamo visto nel video scorso il tutorial per il muscle up. Se vuoi imparare questi incredibili esercizi puoi andare qua sopra, ti lascio il link così ve lo puoi andare a vedere. Ok, allora andiamo quindi a vedere i primi esercizi. Ok, perfetto, adesso andiamo invece per il secondo step dove Fede ti mostra il Dragon Flag. e variante del Dragon Flag per andare quindi a imparare il front lever. Vai Fede! Allora, prima di tutto partiremo dall'impostazione del Dragon Flag a braccia piegato in modo da riuscire a generare più forza con gli arti superiori per proiettare il corpo in candela. Il primo nostro obiettivo è riuscire a proiettare il corpo perfettamente in candela rinfilando bene il bacino senza arcare la zona lombare e contraendo bene la parete addominale. Senza però che risulti troppo rotonda la posizione deve comunque risultare bella allineata. Partiamo da questa impostazione e poi vediamo tutti gli scarichi di leva dal più semplice fino alla versione pull a gambe uniti e tese. I bollettati! I bollettati! Perfetto, abbiamo visto completamente Quindi il Dragon Flag e come eseguirlo con la variante di leve Vai Fede, spiegaci pure La seconda parte, la seconda messa a punto del nostro Dragon Flag in bisogno di un front lever E' riuscire a eseguire il Dragon Flag a posto di quelle braccia piegate a braccia tese Sempre ricordando però che è un esercizio di tirata Quindi non dovremo spingere il piolo Ma dovremo comunque mantenere la retrazione scapolare per andare a tirare l'ostaggio e proiettare il corpo in Dragon Flag Oltre alle isometrie, chiaramente sono molto validi anche i raise Sempre senza squadrare o senza arcare la zona lombare Ok, quindi va bene, facciamo un piccolo Quindi ricapitoliamo quello che abbiamo visto con il raise e la variante di leve Spieghiamo un secondo perché magari non è pratico Allora, sicuramente partiremo dalla versione TAC Quella raccolta completamente Per poi andare a distanziare le gambe dal busto di 90 gradi E arrivare alla versione TAC advance Come progressione abbiamo poi dopo il one leg dove una gamba rimane completamente raccolta E l'altra viene proiettata tesa in avanti Dal one leg normale cercheremo un one leg advance Con l'allenamento, chiaramente Dove andiamo a distanziare la gamba piegata a 90 gradi tra busto e cosce Per poi andare a vedere le versioni straddle e full Ok, ok, quindi adesso vediamo una variante di Dragon Flag con le braccia Con le braccia, sì Perfetto, andiamo con il prossimo passo Lascia la parola di nuovo a Fede Adesso andiamo a vedere come portare i raise studiati un po' con il Dragon Flag Ricordando sempre il discorso degli scarichi di leva dove da TAC a full c'è una gran differenza È come aumentare il peso del nostro pacco pesi ad esempio in una lap machine Quindi viene a ricordarci che si partirà sempre dalle versioni TAC E fino al momento in cui non saranno completamente eseguiti in modo perfetto gli esercizi Continueremo a lavorare la stessa leva Vediamo adesso il primo step dove passiamo realmente dal front lever Che è il raising front lever Partiremo dalla versione TAC Per poi vedere anche la versione one leg straddle eventualmente full Ok, andiamo a rivedere Perfetto, Fede è stato bravissimo Quindi Fede spiegaccio un po' la progressione, quello che si è appena mostrato Allora, vediamo come abbiamo visto come dal TAC front lever Che era il primo raise, il più semplice mantenendo le ginocchia all'interno della sbarra Come riuscire a portare il corpo attraverso una trazione scapolare in un leg raise Si ricorda in verticale, in candela, alla sbarra Il secondo step che abbiamo visto adesso su questo esercizio era effettuarli in one leg Quindi con una gamba raccolta a petto e l'altra tesa La leva è molto già più alta, il carico percepito è molto più alto Quindi sarà difficile riuscire a eseguire l'ultimo momento senza squadrare il bacino È importante però riuscire a mantenere il più possibile il bacino in linea Seconda versione, la terza versione che abbiamo visto era la salita in straddo Quindi a gambe divaricate E l'ultima versione era in full a gambe unite tese Inizialmente magari si può prendere una piccola oscillazione Senza però abbandonarsi all'aiuto dell'oscillazione Per poi eseguire un raise un po' più rapido E un po' più passante, veloce, senza squadrare Ok, quindi perfetto Altra domanda che voglio farti È necessario arrivare con il corpo fino a toccare la sbarra? No, in un primo momento possiamo lavorarli anche solo al mezzo rom Quindi arrivare alla situazione dove il corpo è parallelo a terra In un front lever Per poi riuscire ad andare a eseguirli completi in un secondo momento Perfetto, molto chiaro Perfetto, direi di proseguire con il prossimo step Andiamola a vedere Ottimo, andiamo quindi con questo prossimo passo Che adesso Fede ti spiegherà per bene Iniziamo a guardare adesso sulla sbarra bassa Le varie posizioni isometriche Chiaramente se abbiamo lavorato i raise in tuck o in one leg L'isometria in tuck, tuck advance e un po' di one leg Dovremmo riuscire ad averla Magari in qualche seconda all'inizio Per poi aumentare il secondaggio Mano a mano che l'allenamento prosegue Vediamo un attimo adesso il tuck front lever Per i presupposti di ritrazione scapolare Per poi andare a vedere anche le leve un po' più avanzate Eccoci noi qua Abbiamo visto completi Quindi questo step Abbiamo visto i pulse e i pull up Di nuovo a lasciare per la serie Così ci spiego un attimo meglio Allora, adesso una volta che abbiamo impostato bene Il front lever isometrico e i raise alla sbarra alta Mezzo rom fino al front lever E sul rom fino alla candela Andiamo a vedere nello specifico Il rinforzo dell'angolo di front lever Quindi vedremo dal front lever alla candela Isolando il mezzo rom La parte alta del rom di front lever Perfetto, andiamole pure a vedere Andiamo! Perfetto, siamo ormai alla fine di questo tutorial Dedicato al front lever Sono, come abbiamo visto, 5 step Abbiamo visto 1. I perrequisiti alla sbarra 2. Siamo andati a vedere dragon flag Varianti vari 3. Siamo venuti qua alla sbarra 4. Abbiamo visto le varianti sempre qua alla sbarra E alla fine 5 abbiamo visto le varianti avanzate Adesso lascia di nuovo la parla Fede Che ti spiegherà come impostare al meglio Il tuo programma di allenamento Poi ovviamente se hai dubbi o domande Lascia un buon commento qua sotto Saremmo felicissimi di risponderti Vai Fede! Allora, sicuramente dobbiamo partire con i prerequisiti Pull up, pull up scapolare e leg raises Ed avere almeno 3 serie da 8-10 ripetizioni Di questi esercizi Eseguiti in modo semplice e corretto Per quanto riguarda invece il secondo step Il dragon flag partiremo dalla versione a braccia piegate E il nostro obiettivo sarà riuscire a raggiungere quella a braccia tese Nella massima versione di leva Quindi in full Partendo però ricordiamo sempre dal tack Tack advance One leg One leg advance Struddle E pull In un secondo momento Quando saremo pronti Il dragon flag sarà ben consolidato Ci sposteremo alla sbarra E inizieremo a lavorare i front lever raises Quindi cercando di arrivare prima al mezzo rom Raggiungendo il front lever E poi arrivare alla candela, alla sbarra Sempre in maniera molto fluida E senza squadrare il corpo Come finale Come finale abbiamo gli esercizi isometrici E le varianti complesse Abbiamo le isometrie Dovremmo riuscire sicuramente A mantenere per 10-15 secondi La versione di leva più semplice Prima di poter caricare di più Allungando una gamba O allontanando l'angolo Aprendo l'angolo busto cosce Quindi partiremo da 10-15 secondi di tack Anche 20 Per poi riuscire a fare 15 secondi di track advance 15 secondi di one leg 15 secondi di one leg advance E così via Come ultimo esercizio che abbiamo visto Ultimo step Erano i pull I pulse E i pull up E anche qui Essendo un esercizio di forza Conviene magari lavorare su tante serie E poche ripetizioni Quindi dei 5x2 5x3 di questi esercizi Cercando di usare la leva più difficile Che riusciamo a gestire Ma senza rovinare la posizione Quindi senza squadrare Senza arcare Senza perdere la retrazione scapolare E questo è quanto Ok perfetto Quindi abbiamo visto Come imparare il front lever In questi 5 step Ti ripeto Se hai dubbi domande Lascia pure un commento qua sotto Saremmo davvero felici di risponderti Che dire quindi Metti in pratica E adesso ti lascio anche I contatti di Fede Qua sotto in descrizione In modo che tu possa contattarlo Soprattutto se hai delle parti Ravenna Comunque Fede Dici tu in modo più chiaro Quello che riguarda i contatti Mi trovate Allora su Instagram Federico Fignagnani Anche su Facebook Federico Fignagnani Mi trovate personalmente Alle palestre Alfa Gima ad Alfonsine E alla Ravenna Alla Body 2000 Calisthenics Academy Perfetto Quindi chiudiamo questo tutorial Se vuoi vedere altri tutorial Su esercizi calisthenici Qua sopra ti ricordo Che hai il link Del muscle up Quindi che dire Ci vediamo in un prossimo video Ciao da Mattia Ciao da Federico Ciao da Mattia Ecco appétit Grazie a tutti